Musica Torna nella sua dodicesima edizione Book City Milano dal 13 al 19 novembre. A tema quest'anno il tempo del sogno, declinato in moltissimi eventi. Ospite d'onore sarà Oran Pamuk, già premio Nobel nel 2006, che per l'occasione riceverà il sigillo della città dal sindaco Giuseppe Sala. Ma naturalmente il clou rimangono gli eventi, dalla poesia ai reading, gli appuntamenti, le camminate per la città, le parole della cura, le storie di libri, coinvolti teatri, fondazioni, luoghi della cultura e naturalmente le università, dalla statale alla cattolica al politecnico, alla bicocca, solo per citarne alcune, e i musei, il museo di storia naturale, il museo del Novecento, quello della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci, il Bagatti Valsecchi. Luogo di elezione, anche i teatri e gli eventi per le bambine e i bambini. Senza dimenticare le biblioteche, le librerie, con un occhio di riguardo specifico, a Book City Sociale, che amplia ulteriormente la propria offerta. Nelle carceri, negli ospedali, nelle case delle associazioni del volontariato, nei luoghi di accoglienza, nelle biblioteche di condominio. Questo è l'aspetto più importante, perché quello che siamo riusciti a fare in questi 12 anni è spostare il centro di Book City dal castello, che i primi anni ricordate era il centro di Book City, a un lungo percorso di decentramento, in modo da attivare, ma non un percorso di decentramento che prevede che chi sta al centro va in periferia, ma in modo da attivare tutte le realtà culturali dei vari quartieri milanesi, in modo da avere una manifestazione policentrica. Dopo 12 anni posso dire che finalmente ci siamo arrivati. Dalle carceri coinvolte a luoghi di alta cultura, le università, le scuole, il sociale addirittura, le biblioteche di condominio, oltre gli eventi naturalmente più classici. Questo per dire che Milano partecipa. È solidale anche nel contesto della cultura e della lettura? Allora, quello che voglio dire e voglio ringraziare sono tutti i cittadini milanesi che partecipano a Book City, perché la gente non sa, quando noi presentiamo tutti questi incontri, che la parte organizzata è solo una piccola parte organizzata dall'organizzazione, scusatemi, di Calambur, ma è il mettersi in attività tutti quelli che noi chiamiamo eventi autogestiti, che sono la maggioranza dei 1.500 eventi di Book City, il che significa che la città in prima persona si fa partecipe, lei giustamente ha citato la biblioteca di quartiere, che è una delle realtà, e diventano parte di Book City, cioè sono loro che si attivano. Se questo avrà un'influenza sulla cultura, me lo auguro sinceramente. E per la prima volta sette case editrici cattoliche che hanno sede a Milano su impulso e coordinamento della diocesi si uniscono per un'iniziativa comune che si inserisce nell'ampia proposta culturale di Book City. Artigiani di sogni, due giorni, dieci incontri, una comunità. Questo è il titolo del progetto che verrà presentato in anteprima durante una serata speciale che vedrà in dialogo Mario Calabresi, giornalista e scrittore, l'arcivescovo di Milano. L'idea è nata già qualche anno fa quando insieme ad alcuni editori cattolici ci siamo ritrovati per poter fare qualcosa insieme. Da questo desiderio di bene, desiderio di costruire qualcosa che potesse in qualche modo andare ad incontrare la cultura, questo desiderio di bene, questo desiderio di speranza, e Book City è stato il contenitore dove ci siamo ritrovati a creare questa serie di incontri di sette case editrici cattoliche che hanno costruito Artigiani di sogni. Un bel progetto che noi speriamo guarda già al futuro, guarda soprattutto al giubileo del 25 e quindi non è tanto un evento unico, esclusivo, ma piuttosto invece l'inizio di un itinerario di un progetto che ci vede lavorare insieme per la prima volta. Grazie. Grazie.